Il disco era Musa Ti stavi perdendo la frase migliore, scusami a ciparli sopra Chiedo scusa Marina, chiedo scusa Flavia, chiedo scusa Maura Ma stavo entrando sull'ultimo verso Donna che parla in fretta dall'album Musa di Marina Ray Siamo in diretta anche Facebook E sono contento di ringraziare anche in diretta Facebook Sira Devanna Per questo consiglio Per questo ascolto, io non la conoscevo ma tra l'altro ho scoperto La conoscevi Marina Ray però Sì, questo brano no, però mi interessa ancora di più Perché viene da una poesia di Anne Waldman Una poetessa della Beat Generation Che mi va a completare anche dei tasselli di discorsi Che un po' possono entrare in questa prossima mezz'ora Allora intanto buongiorno Maura Cancitano che ci ha raggiunto qui in studio Un po' frullata diciamo dagli eventi degli ultimi giorni Ma siamo contenti così perché vuol dire che le cose insomma Stanno avendo un eco Ovviamente si tirano dietro anche il negativo Ma perché, cosa sta succedendo? Cosa sta succedendo? Allora, quando l'avete lanciato? Domenica A mezzogiorno Cinque ore dopo avevano già la nostra mail Che poi uno dice domenica a mezzogiorno Ma chi ci sta domenica di luglio al San Almare? No, stavamo tutti là così a guardare il telefono E' nato questo progetto di Areti Costa E io vorrei che Maura ce lo spiegasse per bene Perché così io evito di dire stupidaggi Anche se ho letto tutto quello che è uscito Però voglio che chi l'ha creato E intanto ci racconti con chi l'ha creato E come è nata questa cosa, questo progetto Sì, il progetto e l'iniziativa nasce da una collaborazione Anche se poi l'idea fondamentale è quella di Catila Torre Che è un'avvocata molto apprezzata in Italia Perché lotta costantemente contro ogni tipo di discriminazione Per i diritti di tutte e di tutti Lei ha immaginato una strategia giudiziaria Per difendere tutte le persone che sono vittime di insulti Offese a livello personale sui social network Che non vuol dire le persone che vengono criticate Perché le critiche ovviamente sono legittime E non c'è nessuno che possa impedire a qualcun altro Di criticare con degli argomenti Ma quando si arriva a minacce di morte Minacce di violenza, auguri di violenza Questo non va bene, questo non può essere tollerato E siccome purtroppo in Italia non c'è una legge specifica Che tutela tutto quello che accade online E la polizia postale viene invasa di segnalazioni E non riesce a far fronte a questo Ci sono tutta una serie di meccanismi Per cui alla fine o hai tantissimi soldi e fai il querele Ma se sei una persona normale O se sei veramente travolta da tutto questo Non fai querele nei confronti di tutti E quindi l'idea, la strategia messa appunto da Katie Si rivolge proprio, va in questa direzione Cioè cercare di dare una tutela a tutte le persone Che siano vittime di questo Attraverso tra l'altro una raccolta di segnalazioni Per cui abbiamo creato questa mail Perché odiareticosta.gmail.com Per accogliere queste segnalazioni E' esplosa questa mail nel frattempo Sì, infatti abbiamo dovuto chiedere a delle persone Insomma assumere delle persone Per rispondere Anche solo per archiviare nelle cartelle le email Perché ne arrivano veramente in continuazione Sono piene di link Perché quello che chiediamo non sono gli screen dei post Ma sono i link Perché? Perché lo screen del post può essere contraffatto Quindi io faccio una foto La cambio con photoshop Invece con il link è possibile Certificare una prova a livello forense E questa è la ragione per cui chiediamo il link del post Una volta acquisito questo link Se poi la persona cancella il commento Comunque la prova è acquisita Ah ok Questo infatti lo volevo chiedere Se poi lo cancellano Invece si può comunque risalire Perché l'abbiamo fatto insieme? Perché Athlon interessa da sempre Parlare di educazione civica online Noi abbiamo responsabilità di tutto quello che scriviamo Commentiamo facciamo online Così come ce l'abbiamo di quello che facciamo nel mondo offline Nel mondo reale Ma la percezione è che non sia così La percezione è che tutto quello che faccio online Rimanga impunito Perché chi mi viene a cercare Chi mi fa causa Ma figurati Invece questo non è giusto Non può essere tollerato in questo modo Quindi è un'azione diciamo filosofica E giuridica E questa è la cosa interessante secondo noi Perché è un'azione culturale Ma anche legale Una tutela legale ci vuole Non si possono tollerare migliaia di persone Che ogni giorno danno delle minacce assurde Ieri sera una persona ci ha scritto Che ci augura Che ci getti Che ci chiudano la bocca con l'acido nitrico Cioè arriviamo a questo livello Ma perché ci augura questo? Perché noi abbiamo detto Cerchiamo di creare un'atmosfera sana Sui social network Non abbiamo nemminacciato nessuno Non vi vergognate? Come? Chiedere un posto normale Dove nessuno si senta morto? Perché poi la cosa è questa Non è che ci interessa dire Che solo una parte giusta Ci sono i buoni e ci sono i cattivi No Creare un posto in cui ci si possa veramente confrontare Perché è ovvio che poi in un paese Ci siano idee diverse Ma ci si possa confrontare Senza scendere a offese personali Senza far dilagare le fake news E questa cosa purtroppo è uno scoglio per tanti Ma tantissime altre persone Invece l'aspettavano Esatto Come leggo su questo articolo Augurare lo stupro o la morte non è un'opinione È un reato Scusate Cioè è veramente Sembra una banalità Però non è una banalità Perché le persone sono convinte Che poter esprimere un concetto di violenza Faccia parte di un'opinione Io posso dire la mia Sono libero di dire quello che voglio E quindi posso anche augurarti la morte E no Non funziona così Ma scusa Anche in funzione Non è una posizione ideologica Cioè Non so come dire Facciamo un gioco Facciamo un gioco con gli ascoltatori Siamo magari molti Esattamente il 51% Delle persone che ci ascolta Secondo i dati di Garofalo Di poche ore fa Hanno perlomeno più di 40 anni Quindi immagino che saranno O genitori O genitori O fratelli maggiori Facciamo Tagliamo tutto ciò che è sotto Al vostro fratellino minore O al vostro figlio Augureresse una cosa del genere Così conosce l'ans Alla vostra sorella Alla compagna di classe D Ma scusate Appunto se il reale Il virtuale è reale Il reale è virtuale Non è Non vi mette in qualche dubbio In testa questa cosa Sì Tra l'altro è una cosa che È aumentata esponenzialmente Negli ultimi Vogliamo dire 4 anni 5 anni Non Cioè nel senso È stato molto veloce Sì C'è stato un lavoro Prima ovviamente Certo Però poi è esploso E diventa anche molto difficile Per questo ci vuole anche Un'educazione civica Un'azione culturale Per questo Quello che faremo Nei prossimi mesi A parte appunto Tutta la parte giuridica Tutta la parte legale Saranno anche Saranno delle iniziative culturali Delle iniziative di educazione civica Che vorremmo tra l'altro Che diventassero Già tante persone ovviamente Si impegnano in questa direzione Ma che diventassero dilaganti Perché purtroppo Tra l'altro Quello che io ho letto Anche in giro Eh sì Perché sono i giovani Che sono così No Non è vero Non sono i giovani No E ci sono delle persone Che oggi si sentono liberi Di dire delle cose Che appunto Come dicevi 5 anni fa Non avrebbero mai detto E quindi dovremmo riflettere Proprio su cosa sta diventando Questo paese Non dobbiamo dire Ma tanto sono i social network Essere brutti No I social network manifestano Delle cose Che poi si ripercuotono Anche nel mondo reale Allora io direi Mettiamo un brano Così poi affrontiamo Meglio il discorso Un po' più nello specifico Cosa ascoltiamo? Questo input sui giovani Mi fa venire in mente Una canzone Degli eri Le storietese Super giovane Ma non c'entra moltissimo Andiamo sempre sul leggero Anche su un minutaggio stretto Così c'è più spazio per parlare Fake Tales O San Francisco Questi sono gli Arctic Monkeys Di qualche anno fa Pure questo Nel 2006 L'aria era leggermente differente Eh sì C'era MySpace E questi qui Lasciavano il fuoco Che bello MySpace Che bello Come era sano Come era sano Si parlava solo di musica Praticamente Si rimorchiava Vabbè però insomma Voglio dire Questo potrebbe tranquillamente Essere un discorso Da vecchietti Sull'ondolo Del social network Splendor Cioè quelle cose Che non esistono più Mamma mia Logosfere So Vabbè perché prima Diciamo che Una delle cose Se le andavo a cercare Cioè era molto più Vado a recuperare Vado che ne so Nella pagina Dove ci stanno Dove so che parlano Del mio gruppo musicale Preferito Oppure vado per rimorchiare Questo è un po' Che devo dire Diciamo che come base Un po' è rimasta In generale Per i social E che direi Che a questo punto Insomma Rispetto ad altro C'è anche di peggio Comunque stiamo parlando Con Maura Gancitano Di Tlon Di Odiareti Costa Progetto lanciato poco fa Ed è esploso Qualche giorno fa Insieme a Wild Side Che è lo studio legale Di Catilatorre E volevo chiedere Ho chiesto anche fuori onda A Maura Chi diciamo aspettava Questa cosa Ed erano in tanti Diciamolo Perché le reazioni Non solo delle persone Che normalmente Non si sentono tutelate Perché come dicevamo prima Un vero sistema di tutela Non c'è E quindi effettivamente Quando poi vieni Travolto O travolta Soprattutto Nella maggior parte dei casi Da queste shitstorm Come si dice In gergo Di questi insulti E uno sta lì E si annichilisce E non sa che cosa fare Soprattutto non sa cosa fare Soprattutto non sa cosa fare La mole E la reazione Però non solo chi è vittima Ma anche tutte le persone Che sentono come pesante Questo Questo clima di odio Stavano aspettando Qualcosa del genere Però io mi chiedo La parte invece che O non è interessata O addirittura È contraria E non parlo necessariamente Di chi pratica queste cose Cioè di chi commenta Con violenza Ma anche di quelli che Stanno lì Blandamente indifferenti Non ci interessa Oppure sì ma Ognuno è libero Ah vabbè ma alla fine Se te lo dice Mica lo fa Ho capito Però anche sentirselo dire Non è che sia proprio Non è che uno debba avere Perché a parte il fatto che Uno ha anche paura Che le cose accadano Però facciamo finta Che non accadano Però comunque Non è piacevole Ecco quella parte lì Blandamente indifferente Se non contraria Come possiamo Come vi siete proposti Di acchiapparla Quello è un lavoro culturale Nel senso che Io appunto ho letto Molti commenti E alcuni Secondo me Sono proprio Distaccati dalla realtà Nel senso che Una persona mi diceva Eh ma tanto Sono gli psicologi Eh ma tanto Se queste persone Cioè figurati per un commento Che cosa accade a una persona Sono persone che si sono suicidate Persone che Sono andate Dallo psicologo Dallo psichiatra Persone che hanno chiuso I contatti con l'esterno Perché queste cose Non succedono Sono i personaggi pubblici Cioè è ovvio che noi Ci siamo anche rivolti Esplicitamente personaggi pubblici Per chiedere sostegno Per chiedere anche Il mandato appunto Di difenderli Ma non sono solo I personaggi pubblici Sono persone normali Che magari hanno messo Una foto Hanno scritto un tweet O è venuto fuori qualcosa Che non doveva venire fuori Come il caso del revenge porn Contro la loro volontà E queste persone Hanno subito Una distruzione Della loro identità personale Purtroppo Se non succede a te Da parte di tanti Non esiste Per cui Ah ma tanto Cioè abbiamo avuto I spirituali Che dicevano Eh ma tanto Devi trascendere Non devi scendere A questi compromessi No La tutelata legale Ci vuole Cioè va bene Che la capacità Di trasformare Di non sentirsi Attaccati addosso A queste cose Però a livello legale Devi tutelare Un fenomeno Tra l'altro Così di legante Poi ci sono Quelli che dicono Eh ma tanto Queste cose Non esistono Perché non sono Successi a loro E poi ci sono Quelli che dicono La libertà di espressione Implica il dover Poter dire tutto Questi sono Dei problemi E qui entra La filosofa politica Sono dei problemi Proprio di educazione Civica Nel senso che Se tu non capisci Che in una società Se una cosa Non succede a te Ma succede a un altro È come se succedesse a te Cioè ti deve Riguardare Questo è un problema Di educazione È un problema Culturale È un problema Che la politica La scuola E la famiglia Cioè le persone Le figure Che porti Che fanno crescere Le persone Dovrebbero Tenere in considerazione E se poi dici Che la libertà di espressione Implica il poter Augurare la violenza A qualcun altro Allora non stai Qui c'è un problema Tra l'altro anche Di logica Di argomentazione Quindi anche Un problema cognitivo Spesso Cioè sono i cosiddetti Bias di conferma Bias cognitivi Il fatto che Non capisci Che noi possiamo essere Io posso essere D'accordo Il fatto che Carola Rachete Dovesse Entrare a Lampedusa Tu puoi non essere D'accordo Ma nessuno Dei due Ha il diritto Di offendere A livello Proprio Come dire A livello personale Quella persona Sono due cose diverse Possiamo discutere Degli argomenti E degli argomenti Si deve discutere Giusto discuterne Anche perché spesso La verità è molto Difficile da trovare Ma non si devono Offendere le persone Quindi tu mi puoi dire No io non sono D'accordo a questa cosa Non sono d'accordo Con questo provvedimento Con questo decreto Ma l'augurio Di una violenza L'offesa personale Non può essere Giustificata E purtroppo Questa differenza Tra appunto La critica E l'offesa personale Spesso non si fa E tante persone In realtà Ci sguazzano dentro Ma anche perché Molto spesso L'offesa È un Non so come dire Un tappabuchi Sulla mancanza Di un'opinione reale O sull'ignoranza Cioè io se Una cosa non la so Mettiamo il discorso Della TAV Che non affronteremo Però per esempio È una cosa Che io non ho mai capito bene Cioè sono sempre rimasta Un po' Non ho mai capito Chi ha ragione Chi non ha ragione Non mi sono Obiettivamente mai messa a studiare Ma quindi sto zitta Non è che Così per partito preso Dico la prima cosa Che mi capita È anche Diciamo magari Una cosa violenta A caso Per poter supplire Alla mia mancanza Di un'opinione reale Mi rendo conto Che non è un discorso Diciamo che Che viene colto Perché altrimenti Non farebbero questi commenti Però insomma Un lavoro di questo tipo È ovviamente molto importante E parlavamo prima Della differenza Se c'è Con i giovani Che tipo di Cioè tu hai Avete un po' Targettizzato Anche l'età Di queste persone Che fanno Di questo fenomeno In generale A parte il fatto Che i giovani Non ci stanno Su facebook Soprattutto Su twitter Figurati Perché i vecchi Litigano Citazione Lì i vecchi Litigano È vero È vero Però effettivamente Mi rendo conto Che forse c'è Una sensibilità diversa Che mi fa forse Un po' ben sperare Beh ci sono tanti giovani Che sono molto responsabili Io non capisco come mai Già perché dici No nel senso Che sicuramente È anche una questione Di fortuna È anche una questione Di caratteristiche naturali Spesso È anche il fatto Che comunque Nonostante tutto Negli ultimi anni Si è parlato molto di più Di inclusività Anche in Italia Per esempio Le persone che seguono Sono tantissime Il nostro pubblico Diciamo È estremamente Trasversale Questo lo vediamo Molto anche Negli eventi dal vivo Quindi persone Molto molto giovani E persone Anche in pensione Cioè ci sono tutte le età E quello di cui ci accorgiamo E quello di cui ci accorgiamo È che tante persone giovani Hanno proprio Una educazione civica Una consapevolezza Della società in cui vivono Che è altissima D'altro canto Ci sono dei giovani Ovviamente Che non ce l'hanno Che sono Vengono manipolati Vengono anche Come dire Attratti Da un certo tipo di narrazione Invece violenta Su questo ci sono anche Delle inchieste Su quello che sta succedendo Nella scuola I movimenti studenteschi I movimenti universitari E Che non sono appunto Da giudicare Sulla base politica Ma sulla base della violenza Sulla base democratica Cioè questa è un'iniziativa Democratica Un'iniziativa Che tutte le persone Che vogliono Una società democratica Dovrebbero appoggiare Almeno idealmente Quindi non è che chiediamo Che milioni di persone E mettano la foto Nella loro bacheca Ma che quantomeno Idealmente dovrebbero appoggiare Perché a livello democratico Tutti vorrebbero In teoria In teoria Vivere Come dire Potersi scontrare Sul terreno degli argomenti Però purtroppo Questo non accade E Questa è una grande responsabilità Appunto Di tutte quelle istituzioni Che dovrebbero farlo Il giornalismo La scuola La politica E poi A livello individuale Anche per questa ragione Che Lo ripeto molto spesso A livello individuale In quanto cittadini E cittadini Dobbiamo sentire Proprio la responsabilità Di fare qualcosa Allora Io mi fermerei Un altro Un altro po' Così poi Andiamo Per quello che si può dire Cosa succederà Ma anche Nei prossimi tempi E cosa possiamo fare Cosa possono fare Tutti Insomma Per questo Vi ripeto Il numero di Whatsapp Per intervenire in diretta 351 5241 101 Se volete Se avete delle domande Per Maura Per il discorso Delle proposte A questo punto 351 5241 101 Continuiamo con Carol King Tumbling down Questa era Carol King Con I feel the earth move Dal meraviglioso Tapestry 1971 Un album Bellissimo Se non l'avete Mai ascoltato Ascoltatelo Perché è stupendo E È un pochino Usurato il disco È un pochino usurato Credo sia anche cascato Quelle 600 volte Perché vabbè E poi dice Non ballo più i cd E cioè Cado A me cadevano in continuazione Comunque va bene Vedi MySpace Invece Allora stiamo parlando I Walkman Che belli Ma che cosa No Sono tornati Sono tornati Eh Vabbè Possono anche tornare Dove sono venuti Dato che si incastravano C'è Neri Pozza Che ha fatto Tutta un'inizio Eh vedi Fuori il Walkman Loro c'hanno Del marketing Che spacca Ultimamente Sentivo che c'è Ma eccolo Veramente È proprio quello Di Neri Pozza Non so se facciamo pubblicità Però ce l'hanno mandato Sì Perché loro Stanno facendo Questo Un po' di personalità Che si occupano di libri Questi Walkman Con la cassettina dentro Credo sia l'audiolibro È un brano del libro Poi ci sono le indicazioni Per creare una playlist Ah Beh Non l'abbiamo ancora fatto Però me lo sono portato Che c'hanno niente da fare Giustamente Se tu puoi fare la playlist Per carità Eh Cambiano i supporti Cambiano le epoche Ma le cuffiette Si incastrano sempre Io sono per gli auricolari bluetooth Non so che cosa ne pensate voi Che non cadono però Non quelli che si infilano così Io sono un po' scettico Adesso guarda Mi trasverso proprio da integralista Con la barba Un po' hipster I vinili No i vinili No però il bluetooth Un po' fa perdere quella grana E soprattutto Se lavi i piatti Sono molto comodi Ma se stai sul divano Invece Basta Allora Chiudiamo questa parentesi Per l'amanti Della hi-fi E continuiamo a parlare Di Odiale Ti Costa Che è questa iniziativa Nata dalla collaborazione Rathlon e Wildside Lo studio legale di Catilla Torre Abbiamo qui Mauro Cancitano Di Lon appunto Che ce ne sta parlando Cosa succederà? Nei prossimi mesi E cosa si può fare Per sostenere questa iniziativa? Allora Io e Caty avevamo Tanti progetti Da fare nel corso del tempo Ma siccome questa cosa È evidentemente Intercettata un bisogno fortissimo Questi progetti Probabilmente subiranno Un'accelerazione Lavoreremo su tanti fronti Lavoreremo sul fronte legale Quindi ci sono queste segnalazioni Si sta già procedendo Con le certificazioni Sono tante persone Che stanno L'hanno mandato Che stanno appunto Chiedendo Anche dei profili particolari Che stanno chiedendo Come fare Per tutelarsi E quindi Questo si sta facendo Si sta ampliando La squadra Perché la squadra iniziale Non è più sufficiente Perché le segnalazioni Che arrivano Sono continue Quindi si procede Su questo campo Si procederà sul campo culturale Stiamo ovviamente Facendo riunioni Tavoli con dei soggetti Che vogliono parlare Tra cui penso di poterlo dire Anche Facebook Ah bene Con cui già C'era Volevamo parlare Avevamo in programma Perché Facebook stesso Ci aveva chiesto Di parlare di questo Perché il loro interesse È quello di Creare un ambiente sano E quindi Ci sono appunto Vari soggetti Che stiamo ascoltando Ci sarà un'attivazione A livello culturale Ed è qualcosa Di cui ci occuperemo Soprattutto noi di Tlon Quindi fumettisti Scrittori Casi editrici Ci hanno già detto Che vogliono partecipare Per cui cercheremo Di fare qualcosa Che possa coinvolgere Molto a livello artistico Perché a noi Non interessa Combattere l'odio Con l'odio Quello che ci interessa È far vedere Che si può creare Un'atmosfera diversa Un ambiente online salubre E di conseguenza Anche un ambiente offline E poi Quello che sicuramente C'è da fare Su cui tante persone Hanno cercato Hanno Come dire Hanno lavorato In questi anni Per esempio Laura Boldrini Che da subito Ci ha dato La sua totale disponibilità Su questo progetto È creare anche Delle leggi ad hoc Perché non ci sono ancora Delle leggi Che ci tutelano E che fanno in modo Che ci sia un argine Su tanti comportamenti online Quindi vorremmo anche In qualche modo Mostrare Che ci sono tante persone Che hanno bisogno di questo Che vogliono Perché tante persone Noi le vediamo spesso Con Tlon Le persone Come dire Più consapevoli Sono le persone Che purtroppo Commentano Intervengono meno Perché hanno paura Di E quindi magari Le incontriamo O ci scrivono in privato Le incontriamo E dicono Sì io vi seguo Sanno tutto Quello che facciamo Però non commento mai Perché non mi piace Che poi Come dire Lo scontro E questo è terribile Perché vuol dire Che ci sono tante persone Che avrebbero tante cose Belle da dare Anche a livello di confronto Che non lo fanno Perché non vogliono Mettersi in mezzo In questo In questa canera Che accade Sui social network E quindi vorremmo Lavorare appunto Su tanti fronti diversi Ci fa piacere Tra l'altro Che tante persone Appunto anche Come dire Personaggi pubblici Persone che ogni giorno Scrivono sui social network Che hanno molto seguito Stiano Abbiano aderito A parte appunto Fiorella Mannoia Tante altre persone Che hanno Michela Murgia Ha visto l'altro giorno Michela Murgia Ha fatto un video E Michela Ha aderito In una maniera Veramente molto forte Cioè proprio mettendoci La faccia in prima persona E ci crede tantissimo Per cui credo Che continuerà A contribuire molto Ti interrompo E chiedo scusa Ma dato che ho Giampaolo Castaldo E Elisabetta Laurini Ma anche altri Di Radio Elettrica In ascolto Posso tranquillamente Avanzare la nostra Disponibilità In primis Per letture metropolitane Ah certo Questi microfoni Sono anche i vostri microfoni Grazie Quindi qualsiasi Possibilità Possiamo aiutarvi Lo faremo Chiara Interviene addirittura In diretta Facebook Ringraziandovi Anzi grazie mille Con tanto di cuoricini Grazie Quindi Appunto Avanziamo già Le nostre carte Relativamente Importanti Ma possiamo Possiamo Entrare Nel nostro piccolo E devo dire Che io in effetti Sono fra quelle persone Cioè nel senso Fra quelle che dicevi te prima Io ascolto tanto Guardo tanto Ovviamente utilizzo I miei canali Per Tipo questo Per Supportare Le iniziative Però Difficilmente Mi butto Nella cagnara Perché È proprio una cosa Che Non tanto per la paura Proprio per il fastidio E credo che questo sia molto diffuso Ed è secondo me Uno dei motivi Come dicevamo prima Per cui i giovani E ho fatto il gesto di fuggire Si allontanano da questo Per esempio Instagram È un ambiente Per il momento Un po' più sano Cioè ci sono tanti comportamenti E ci sono anche Tante cose nascoste A me è capitato ogni tanto Di finire su dei profili Molto seguiti Che Che sono vergognosi Andrebbero segnalati Andrebbero contenuti Però È veramente Molto più sano Quello che stiamo vedendo Gli ultimi mesi Perché noi fino a Qualche mese fa In realtà su Instagram Non ci stavamo O ci stavo io a livello personale A guardare le persone che seguivo Però non facevamo Attività di divulgazione lì Abbiamo iniziato E abbiamo visto Che Paradossalmente Perché adesso dicevamo Ma come fai Con un post Con una storia di 15 secondi No ma meglio Invece Paradossalmente Si riescono a creare Delle bellissime conversazioni L'unica cosa di Instagram È che Secondo me Fa un Ogni tanto ci sono Delle operazioni Un po' più subdole Cioè per esempio Il discorso dell'estetica No Lì bisogna La pubblicità Di qualsiasi cosa Bisogna stare molto attenti Perché appunto ci sono Questi profili Magari fit Queste cose Per cui Ecco i ragazzi I ragazzini Le ragazzine Magari Finiscono in quel In quel giro E Non ci sono commenti violenti Però Ma guarda quanto sei bella Perché pesi 5 kg Si vedono tutte le cose Ecco c'è un altro Un pericolo diverso Che l'immagine Chiaramente Però per esempio C'è anche molta divulgazione Sulla body positivity Esatto Tipo belle di faccia Che ho già Esatto Per esempio su Facebook Questo non c'è È vero Quindi è vero Che c'è più pressione A livello estetico Però è anche lì Un fatto di eco chamber Cioè È possibile Che tu Se ti senti così A un certo punto Intercetti qualcuno Che invece ti dice Qualcos'altro E stanno diventando Sempre di più E infatti quello che Io dico spesso Anche rispetto alla bellezza Rispetto ai condizionamenti femminili Quindi al mito della bellezza Al doversi adeguare In questo Io non vedo Io non vedo mai La differenza tra cultura alta E cultura bassa Questa cosa mi dà molto fastidio E la ragione per cui di filosofia Ne parlo In gran parte Alle persone Più che negli ambienti accademici O negli ambienti aziendali Perché secondo me È possibile Come è già successo A noi su Instagram Che si parli di filosofia E si parli di certi temi Da parte di persone Che magari vendono vestiti Vendono arredamento Vendono creme Cioè Questo non significa Che se vendi certe cose O ti occupi di certe cose Non puoi fare Di discorso Inclusive di questo tipo Anzi È proprio per questo Che li devi fare Cioè va bene Che Come dire Va bene parlare di vestiti Ma È importante Parlare di vestiti Per tutte le persone Certo E leggo qualche commento Che vedo qui Sotto la realtà Facebook Abbiamo aperto un calderone Benissimo Cioè Alessandra dice Finalmente una iniziativa concreta Su un tema caldissimo Forza siamo con voi Chiara dice È vero Lo scontro non mi piace Perché non è costruttivo Quando c'è solo odio Dialogare mi piace Anche con persone Che non la pensano Come me Anzi mi piace molto Cioè Nel senso è vero È così La differenza è questa Cioè non si parla di bloccare Qualsiasi tipo di dialogo Perché sennò è inutile Nel senso Questi sono dati apposta I social network Per poter creare rete Però appunto Quando il dialogo diventa Mero ping pong Di violenza A quel punto Non serve a nessuno Maura Cianciarelli Si associa Al sostegno E all'ascolto È una collega È una collega Sì sì ma la collega Sì sì ma la collega è una dotatrice Eh sì È la collega Ma è famosissima Sì sì E Gianmarco Poi si chiama come me Quindi figuriamoci Giusto E non siete tante Anzi siete pochissime Maura Chi altro c'è Gianmarco Gianmarco sì Che fa i complimenti E si associa anche lui Farà dei panini più Tranquilli No sono tranquillissimi I panini di Gianmarco E li ringrazio Per il sostentamento di anni Vi ricordo il 351 5241 101 Se volete commentare O chiedere qualcosa A noi o a Maura E c'è anche la diretta Facebook ovviamente A questo punto L'ultima parte Io metterei un altro brano Così poi Facciamo qualche altro Riferimento E poi magari Ampliando il discorso Ci consigli pure qualcosa Da leggere per quest'estate O qualche cosa da seguire Vediamo Qualche altro Walkman Da tirare fuori Per la polvere Esatto E guarda Non è casuale nulla Credo Perché avevo Ho preso stamattina di corsa St. Vincent E alla traccia numero 5 C'è Digital Witness Fino all'ultimo secondo St. Vincent Digital Witness Dall'album omonimo ST Cortina Era corta Ho una sensazione mia No 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 Ha fatto le sue Tre minuti I suoi tre minuti Allora Sì forse perché Sono appassionata Di quello di cui si sta parlando E quindi mi distraggo Siamo arrivati Diciamo Alla conclusione Di questo momento Dedicato All'iniziativa Odialeti Costa E avevo chiesto a Maura Gancitano che è con noi Con la quale insomma Stiamo parlando Stiamo scoprendo di più Come funziona E come funziona Nella pratica Cioè nel senso Voi state raccogliendo Abbiamo detto prima I link Dei post Con i commenti Diciamo Violenti A questa mail Che è Odialeti Costa Chiocciola Gmail.com E dopodiché Più o meno Che succede? Allora dopodiché Intanto ci sono delle persone Ovviamente che stanno lavorando E stanno certificando Questi commenti Si possono segnalare Commenti Appunto Odialeti Costa Chiocciola Gmail.com Ricevuti a livello personale Entro cinque anni Quindi in realtà Non sono delle cose scritte L'altro ieri E poi non valgono più No Entro cinque anni Per cui si possono andare Anche a recuperare Delle cose Che sono accadute Appunto un po' di tempo fa E poi segnalare Appunto cose che si trovano Commenti di odio Verso delle categorie Per esempio Persone LGBT Persone di colore Quindi Delle categorie specifiche O verso dei personaggi pubblici Ovviamente noi possiamo procedere Per difendere personaggi pubblici Che ci hanno dato mandato Certo Quindi non è che possiamo Ci mettiamolo Che difendiamo una persona a caso Per cui bisogna dare questo mandato Si sa È ufficiale Che Carlo Larachetta Ha dato questo mandato Quindi la ragione Per cui poi domenica Abbiamo fatto Il video È stata Prima di tutto Non pensavamo Che avremmo scatenato Tutto questo Ma per raccogliere Le segnalazioni su di lei Perché su di lei È stato scritto Di tutto E non è giustificabile Cioè si possono avere idee Sulla gestione delle migrazioni Diverse Ma non è giustificabile Che una persona Ma sia oggetto Di quel tipo di gogna E quindi si raccolgono segnalazioni su di lei Ma ci sono tanti altri personaggi Che hanno già dato mandato E quindi man mano Tra l'altro Diremo anche chi sono Ma stanno già arrivando Comunque tantissime segnalazioni Per altre persone Quindi se si vede qualcosa in rete Che è un commento di odio Si può segnalare Quindi si manda questa mail Perché questo Per fare i poliziotti Del web No Per creare un ambiente sano E quindi per fare in modo Che tra l'altro Queste persone Si possano tutelare E per cambiare la percezione Perché anche questo È un lavoro culturale Cioè se tu sai Che puoi dire qualsiasi cosa Di chiunque E tanto rimani impunito Continui a farlo Se invece cominci a capire Che quella cosa è illecita Che non te lo puoi permettere Non è giusto Allora comincia A rifletterci un po' di più Perché ti rendi conto Che tra l'altro Quella cosa ti potrebbe costare E quindi eviti di farlo Questo non è Come dire Non risolve tutto il problema Perché probabilmente Continuerà comunque a pensarlo Però intanto è comunque un freno E poi lavoriamo anche Sulla parte culturale Quindi la forza di questo progetto È anche il fatto di lavorare Contemporaneamente Sull'aspetto legale E sull'aspetto culturale Perché non si possono dissociare Non si possono separare Queste due cose Se lavori Sull'aspetto culturale Che è un lavoro più lento Queste persone continuano a dire Vabbè non ti ascolta Se lavori sull'aspetto legale Che sia un fatto di tutela Ma anche un fatto di percezione Perché ovviamente Se sai che quella cosa Non si può fare Ci pensi un po' di più Prima di farla Allora Quelle due cose insieme Veramente possono funzionare E abbiamo bisogno Dell'ascolto Da parte appunto Di soggetti importanti Soprattutto di persone Di qualunque schieramento politico Che vogliono contribuire A fare delle leggi Giusti Cioè delle leggi Ragionevoli Su questo tema Per contrastare La morea di tutto Quello che arriva E di nuovo Tanti scrivono Eh ma c'è la polizia postale Ma non ce la fanno A gestire tutto Non ci si riesce Per cui bisogna trovare Dato che comunque Sono milioni di persone Di persone in Italia Che si collegano I social network Che commentano Interagiscono Allora si deve fare in modo Che questo tipo di dibattito Che può essere potenzialmente Un dibattito Molto positivo Perché non è mai successo Che ci fosse un dibattito pubblico Che tutte le persone Potessero essere coinvolte In un dibattito pubblico Su così grande scala Cioè non siamo in una polis Sì non è una cosa Di cui devi conoscere In cui ci sono Cento, mille Cittadini Che dialogano Su un tema No Qui si tratta Di milioni di persone Quindi è una cosa Molto importante Però dobbiamo fare in modo Di tenere un'atmosfera Sana Sana E una curiosità Non so se hai una risposta Però io la butto là Avete fatto un confronto Vi è capitato di fare un confronto Con una situazione Fuori dall'Italia Cioè nel senso È un problema molto nostro Più che di altri paesi Oppure Siamo tutti sulla stessa barca Negli ultimi anni Così Allora negli ultimi anni La situazione sta degenerando In tanti paesi del mondo Lo sappiamo Anche dei riflessi a livello politico E non è di nuovo Un fatto di schieramento Un fatto di posizioni democratiche Quindi se voi andate a vedere Per esempio Tanti condivisioni Anche di video A me è capitato di vederlo In Inghilterra Si trovano tanti commenti Che sembrano Che tradotti in italiano Sono uguali Ok la stessa cosa Però In Italia è peggio Nel senso che in Italia C'è un problema culturale Grande Che è legato a una cultura Macista Maschilista In cui per esempio Le donne Se vanno Cioè Vengono costantemente giudicate Rispetto all'aspetto fisico Si cerca costantemente Di far perdere Le loro autorevolezza Questo è un problema tutto italiano Nel senso che per esempio In Inghilterra Certe cose Non si dicono Cioè c'è un fenomeno Che è quello del catcalling Quello del fare i fischi per strada In Inghilterra non si fa In Italia ancora Se tu lo dici Dicono Eh ma ti dovrebbe far piacere Quindi questo Guardate questo fenomeno Che sembra un fenomeno marginale Vediamolo su vasta scala Su vasta scala Significa che Ci sono dei problemi In generale Nei social network E come c'è Ci sono giustizieri Alla rete in Italia E ci sono in tanti altri posti Il consiglio di lettura È giustizieri della rete Di John Ronson Per esempio Un libro molto interessante Di non fiction Quindi anche molto bello Da leggere Perché ci sono tante storie Che racconta Come tutto questo Accade anche altrove Racconta delle storie Degli Stati Uniti Dell'Inghilterra Quindi non storie Italiane appunto Cioè accade in tanti altri paesi Però in Italia C'è una specificità Che è legata A una cultura Che ancora Ci ostiniamo a non abbandonare Per cui le persone Vengono discriminate Se hanno un certo tipo Di caratteristiche Diciamo che poi Questo si nota Per esempio anche Che ne so Mi vengono in mente I colloqui di lavoro all'estero Che ci sono delle cose Che nessuno si sognerebbe Mai di chiedere Che riguardano appunto Il genere Che riguardano La vita privata Ha intenzione di fare figli Cioè delle cose Per cui A me non l'hanno mai chiesto Il datore di lavoro Verrebbe Penso arrestato O cose simili Cioè nel senso Non sono proprio previste E invece da noi Sono assolutamente Normali È proprio un fatto Di forma mentis Cioè appunto Non sono previste Perché non Non ti viene in mente Esatto Esatto Esattamente E altri consigli Di lettura Così poi Salutiamo Maura O anche Di visione Anche le serie Vanno benissimo Allora Allora Una serie che esce il 26 Ho visto in anteprima Per Amazon Prime Si chiama The Boys Una serie di supereroi Ho visto solo la prima Il primo episodio Ed è un episodio Molto forte Perché racconta i supereroi Da un altro punto di vista Ed è molto forte A livello visivo Ma anche come temi Che affronta Perché affronta Dei temi Che sono temi di attualità Anche il rapporto Con i social network Anche le molestie Però Con un effetto straniante Perché ne parla Dal punto di vista Dei Un consiglio completamente diverso Quindi Giustizia della rete The Boys Un altro consiglio È Un indovino Mi disse I Tiziano Terzani Ok Forse non ve lo aspettavate Però Ho ascoltato l'audiolibro In realtà Recentemente Del libro bellissimo Che è molto bello Anche proprio per fare Un viaggio Nel corso dell'estate Perché Quello che accade Negli anni 90 A Tiziano Terzani Che ha vissuto In Asia Per tantissimi anni Ma era sempre molto scettico È che A un certo punto Un indovino Da cui lui non voleva Neanche andare Gli dice Guarda in quest'anno Non devi prendere aerei Perché rischi di morire In un incidente Rischi un incidente Allora lui inizio dice Ma che cosa faccio Cosa non fa Io non ci credo Ma figuriamoci Però vabbè Facciamo un gioco Facciamolo E quindi lui lo fa Lui passa un anno A viaggiare tantissimo Per l'Asia Ad andare Tra l'altro Anche in Europa Con la transiberiana E si trova A vedere E ha Poi tra l'altro Il gioco Anche il fatto Di consultare Tutti gli indovini Possibili Intanto scopre Che alla fine Le persone Anche quelle più razionali Poi alla fine C'hanno il loro Indovino di fiducia E poi Vede un'umanità Che Che altrimenti Non avrebbe visto E vede i cambiamenti Dell'Asia Vede Singapore Che sta cambiando Completamente La rivede Erano cinque anni Che non la vedeva E vede che sta diventando Una città Tutta finta In cui tutto Si svolge Negli alberghi In cui Lui si ricordava Una città estremamente calda In cui fa freddo Perché ovunque C'è la riconizionata Sparata a palla E quindi racconta Il cambiamento Dell'Asia E quindi di tutto il mondo È un libro Molto bello Benissimo Allora Diamo un attimo Ancora qualche coordinata Su Diarieti Costa Ovviamente Trovate tutte le informazioni Sulla pagina di Tlon E anche sulla pagina Diarieti Costa Esatto Sulla pagina diarieti Costa Che non è solo un hashtag È anche una pagina Di Facebook Su Instagram Su Instagram ancora no Però Tlon Tlon.it Tlon.it Seguiteli Perché insomma Loro aggiornano L'iniziativa E poi non solo Perché vi danno un sacco di consigli Affrontano un sacco di argomenti Vi spiegano le parole È proprio Cioè È ricco di contenuti I tanti all'ascolto In podcast In diretta O in altre modalità In diretta Su Facebook Potrebbero Possono dare una mano Fisicamente al progetto A voi avete Sì Noi abbiamo bisogno Profili Esatto Intanto Chi vuole dare disponibilità In generale Ci può scrivere Sempre Prodiere di costa Chiacciola gmail.com In particolare Però ovviamente Abbiamo bisogno di persone Che a livello tecnico Ci possano aiutare Quindi Acheretici Investigatori privati Anche Avvocati Insomma Tutte le persone Che possono aiutare In questa A smaltire Questa mole di lavoro Anche delle persone Che hanno delle idee Su delle iniziative Quindi anche a livello culturale Se qualcuna voglia di aderire Come associazione Stanno arrivando tante Advisioni di questo tipo Ha voglia di fare qualcosa insieme Quello che facciamo in questo momento Ovviamente È raccogliere tutto E poi Cercare di capire come fare Quello che ci interessa È proprio mettere insieme le persone Quindi Che è una cosa Che purtroppo in Italia È difficile fare Perché uno si crea il suo orticello Si coltiva quello lì Non glielo devi toccare Invece quello che ci interessa È proprio essere trasversali Quindi Il più possibile Cercare di mettere insieme le persone E collaborare E te è utile che Instagram In questo È sorprendente Sorprendente Perché in continuazione Ci sono persone Che consigliano di seguire altre persone Io penso Forse Non dico la metà Però Il 30% delle cose Che seguo Dei profili che seguo Mi sono stati Suggeriti da altre persone E io trovo questa cosa Meravigliosa Si si Perché c'è un Un ampliamento di vedute Cose che magari tu Proprio perché ce ne sono tante Non saresti riuscito a scoprire Magari anche Persone che hanno meno follower Perché poi c'è questo problema Della quantità di follower Che se ce ne hai pochi Magari Sparisci Nell'insieme delle cose E invece è molto bello Perché si riesce un po' A fare rete A dialogare in tempo reale Perché tra una cosa che con YouTube Con Facebook Non si riusciva a fare Quindi le collaborazioni di YouTube Erano molto più infiocchettate E su Facebook Invece di solito Ci sono questi Pulpiti E non ci si parla Quindi magari Chi sta parlando È un pubblico Pulpito Lo sa Lo legge Cosa fa l'altro Però mica suggerisce Di andare a seguire lui Perché poi non seguono più lui Su Instagram Questa cosa non accade Perché è più facile capire Quanto sia importante fare rete Quindi se io vedo una cosa Bella Che mi interessa di un altro profilo Consiglio di andare a vederla E questa cosa Per esempio Tra l'altro Per noi è stata fondamentale Perché noi siamo arrivati su Instagram Un po' tipo Come arrivi a una festa E non conosci nessuno Esatto Però avete portato i dischi Avete portato Esatto E quindi Questo è fondamentale Cioè questo tipo di collaborazione Ci ha aiutato moltissimo Perché quello che puoi fare Appunto è condividere contenuti Ma finché poi Qualcuno non suggerisce E anche Come dire Non ci sono i sistemi di Facebook Di condivisione Quindi È tutto un altro sistema Questo è molto importante Poi si creano appunto Dei dialoghi Quindi se io Lancio un tema E chiedo a qualcun altro Di parlarne Quella persona Da casa sua Può rispondere Fa in tempo reale Delle storie Fa qualcosa E risponde E quindi si crea un dialogo Le idee sono contagiose Non so chi le diceva Però effettivamente In questa stanza C'è del morbillo buono In corso Ti abbiamo veramente rapito Per tutto il tempo disponibile Grazie mille Grazie mille per essere stata con noi Continuate a seguire Appunto Tlon Wildside L'iniziativa Odiale di Costa Trovate tutto in rete Perché nasce dalla rete E insomma Aiuta la rete Ma le persone che se ne occupano Sono persone reali Così come quelle che Vengono insultate Non sono degli avatar Ricordate Perché la gente pensa Che uno non esista veramente Invece non è così Ti posso dare un pugno veramente Esatto Ecco questo magari evitiamo Grazie mille per essere stati anche con noi Nella diretta Facebook Continuiamo con la musica Sì Franco Battiato Sentimento nuovo Grazie Grazie a voi Grazie a voi